Furto con scasso la scorsa notte alla figliale dell'Ubibank di Mondavio in via Straitel 1. Questa volta, cosa alquanto singolare rispetto alla norma, i ladri non hanno fatto saltare lo sportello Bancomat esterno, ma forzando la porta d'ingresso e poi successivamente l'entrata destinata ai portatori di handicap, si sono introdotti nei locali della banca e con la solita tecnica della marmotta hanno fatto saltare la macchinetta blindata del cassiere, quella che eroga il contante in automatico. La deflagrazione violentissima è avvenuta all'incirca alle 3.30 e ha scagliato i pezzi della cassetta a diversi metri e fatto crollare per lo spostamento d'aria anche il controsoffitto dei locali, oltre a devastare l'intero spazio aperto della figliale con fogli, carte e oggetti da ufficio sparsi per tutto il locale, come solo una deflagrazione può fare. L'allarme è scattato subito, ma i ladri hanno agito in pochissimo tempo, impossessandosi del contante contenuto nella cassetta, una cifra compresa tra i 10.000 e i 15.000 euro, ma ancora da quantificare con precisione, mentre i danni causati dall'esplosione ai locali sono decisamente maggiori. L'esplosione è stata ben udibile in tutto il caseggiato, compreso all'inquilino del piano di sotto, svegliato di soprassalto nel cuore della notte, come avvenne anche a gennaio del 2018, quando invece, sempre ignoti, fecero esplodere il bancomat esterno. Sul posto è arrivata subito la pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Mondavio, che dista poche centinaia di metri dalla filiale, ma i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce. Inutilizzabili purtroppo le immagini della telecamera esterna all'entrata, dato che la banda ha annerito con della vernice spray nera l'occhio della telecamera prima di entrare in azione. La filiale, dal punto di vista amministrativo, ha ripreso ad operare già nel pomeriggio, nonostante i notevoli disagi per impiegati e responsabili di filiale, che a loro arrivo hanno avvertito forte lacre e odore dell'esplosivo presente nell'aria e sulle superfici di lavoro. Ora le indagini per risalire i responsabili del furto sono affidate alla compagnia Carabinieri di Fano, coordinata dal capitano Papalo.